Vi faccio una ricetta velocissima, 5 minuti di tempo, la faccio spesso a casa mia, che cos'è? Un carpaccio di manzo con pesto di rucola, una bontà infinisce mai! Allora, prima cosa, gli ingredienti, la carne, ho la rosa, il taglio rosa di scottona, guardate che meraviglia, bellissima! Leggermente marezzata, e grano o parmigiano fate voi, pinoli, succo di limone, e rucola, assolutamente, mi raccomando, non ve voglio vedere più con quelle buste, mi raccomando, soltanto mazzi! Oggi un mazzo 50 centesimi, è olio buono, stavolta ci abbiamo sommariva! Iniziamo? Sì, dal piatto! Quindi, piatto qui, massaggio il limone, come si fa a casa, normalmente, poi, un po' di succo di limone qua, zacche, 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 come faccio, zacche, zacche, zacche? La prendete in giro ogni tanto, nei commenti, eh? Poi, un goccetto d'olio qua, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tacche-te Poi, incomincio a disporre, c'è pure il matto Mario, di questo carpaccio, così, tutto completamente coperto, il piatto, la la la, la la la, la la la, che meraviglia, guardate! Senti che sta mosietta, che rettimino? Vai così, più il piatto è grande, più mangiate, perché si allargate più, ok, così, la 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 la, allora, potete usare anche un controginello, potete usare anche una bella pezza, c'è lo scamone, sempre tagliato sottilissimo, allora, un consiglio, dialogo, parlate con quel Polo Cristo che sta dietro al banco da macelleria, fatevi consigliare, che quello là ne sa più di voi, quindi, a secondo del giorno, della situazione o dell'animale, vi sa consigliare il taglio giusto, ok? avete capito? vabbè, perfetto, ci conto, poi, la la la, sentiamo così, la la la, poi, un po' di se poco 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 poco, giusto così, giusto così, giusto così, per dire, poi, poco 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 poco, così, pepe nero e sale, camera woman, mi sa fa che, vado pure i segnacci, allora, poi, andiamo, con calma, tan 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 tan, vado, che morì, che fantasma, senti la musichetta, se invitate qualcuno a casa vostra, davanti a lei, o davanti a lui, gli fate sto calcacchetto, così, a tu per tu, vi dirà mai di no, capito a me? allora, poi, un po' di pinoli, poi, mmm, vai, poi, vado, un po' di parmigiano, grana, fate così, l'importante è che, roba giusta, roba buona, roba fresca, vai, così parmigiano, che doveva si divertiva, poi, olio, Agostino 6, la fine del mondo, questo è perfetto per far pesto, ago, 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 insomma, arriva, vai, eh, scendi, è buono, lo so, quindi ne te le fanno uscire poco, vedo, so un po', vai, andiamo, vado, poi, adesso dipende da voi, lo volete un pochino, un po' più denso, lo volete un po' più, così, bello, solito, dipende da voi, vado, un pizzico, un pizzico, guardate, di sale, se non capisco voi, decite che, se volete fa proprio i fighi, potete volete tosta i pinoli, eh, un po', la bontà, buono, eh, lo so, so sbattere troppo, vabbè, allora, un attimo, perché mi fai segni, mi fai cammino, allora, adesso cucchiaio, ci siamo, un po' ovunque, pane, un bel pane tostato pure, vi fate una sfoglietta dei pane, tante tante tante, poi, fanno questo il limone, mettiamo a ponere un po' di, di buccetta, no? vai, così, è finito il piatto, adesso, io ve lo faccio in un'altra versione, guardate, perché sto ritmo mi piace, allora, fanno mettere qua, sono camera fuma, dice, no, la carne cruda sul tagliere, perfetto, basta l'ammaginare, camera fuma, no, è una bella, una ragazza in gamba, solo, ognuno si ha dei suoi fetti, vai, allora, guardate che faccio, guarda qua camera, ahhh, 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 chi è? guardate la carmelletta, eh? ah, il limone? c'ha ragione, un goccetto, ah, esci? ahhh, ahhh, bevi, che carmella, tieni, allora, una bontà che finisce mai, grazie Mirko, che c'è al banco, 2,46, non mi sbaglio, al mercato rionfale, mi dà sempre la carne, fantastica, un bacio a tutti, e, guardate, questi sono, tretti di carne, a voglia di mangiare, per tante persone, quindi, buono, economico, e pure stagionale, che volete di più? vi abbraccio, e leccate, commentate, dai, dai, cos'è la mossa? che bontà, mmmm, videoricetta fantastica, sul mio canale YouTube, e sulla mia pagina Facebook, quindi, carpaccio di manzo, con pesto la rova, che volete di più? siamo ancora in estate, guardate, così, zacchete, zacchete, mmm, un abbraccio a casa, buonissimo, ma se è buono? Grazie. Grazie. Grazie.